Ben ritrovato alla terza puntata di a tutto reality l'isola E come potete vedere alla quarta puntata c'è ancora il biglietto dell'eliminato Chi sarà oggi l'eliminato? Cerchiamo di fare un sondaggio Cosa dici? Allora attento, chi sarà l'eliminato di questa sera? Eh non lo so, sparo un nome a caso, penso che sarà la venge, non lo so E tu Carl, secondo te quella l'eliminato, penso che è l'eliminato E tu driver, io penso che sarà l'eliminato Vabbè insomma, la quarta puntata di a tutto reality l'isola scopriremo il ventiduesimo concorrente Praticamente il quarto ad andare fuori Attenzione Il quarto concorrente ad andare fuori Eeeeeee Eeeeeeeee Morgan, ci avevano quasi azzeccato Sono sempre distanti Eccolo qua Morgan, come hai da dire oggi? Eh non posso dire niente, tutti dicono la stessa roba e dirò anch'io la stessa roba a loro Quindi ci vedremo sempre l'anno prossimo Ciao ragazzi E anche per oggi è finita la quarta puntata di a tutto reality l'isola Adesso faremo un saluto generale A tutto reality l'isola